ciao benvenuti ad un altro episodio di racconti per bambini liberi oggi leggiamo mostro azzurro di olga de dios ciao sono mostro rosa e vi racconterò una storia c'era una volta un posto meraviglioso dove gli uccellini felici volavano e cantavano le nuvole cambiavano colore e anche le pietre sorridevano in questo posto erano nati mostro azzurro bocca mostro arancione e erri e lì erano cresciuti la voce di bocca si sentiva intorno praticamente tutto il giorno mostro arancione saltava saltava e fino in cielo arrivava erri con la sua grande forza sollevava tutte le pietre già da piccoli pensavano di essere i migliori mostro azzurro nonostante avesse le braccia molto lunghe non sapeva come usarle per poter entrare a far parte dei migliori a mostro azzurro piaceva salire su nel bosco perché da lì poteva rilassarsi osservando il posto meraviglioso dove vivevano quando stavano insieme passavano tutto il tempo ridendo e giocando ad essere i migliori al mattino cantavano bocca ovviamente cantava più forte di tutti il pomeriggio saltavano mostro arancione arrivava fino alle nuvole e quando arrivava la sera giocavano con le pietre erri era quello che le lanciava più lontano mostro azzurro continuava a non sapere cosa fare con le sue lunghe braccia per far parte dei migliori tutti gli davano consigli che però a lui non piacevano passarono molti giorni e molte notti mostro azzurro notò che quel posto era diverso le nuvole non cambiavano più colore gli uccellini non cantavano e anche le pietre avevano smesso di sorridere perché non volete più giocare con noi siamo i migliori chiese mostro azzurro però nessuno rispose mostro azzurro con una delle sue braccia abbracciò l'albero l'albero decise a sua volta di abbracciarlo e parlarono così facendo mostro azzurro imparò ad ascoltare a quel punto mostro azzurro con le sue lunghe braccia abbracciò tutto il bosco ascoltando e parlando mostro azzurro capì come si sentivano mostro azzurro raccontò agli altri quello che era successo nel bosco e gli propose di fare due chiacchiere e ascoltando impararono impararono a cantare con gli uccellini a saltare sulle ninfee e a costruire con le pietre in questo modo riuscirono a trasformare quel posto meraviglioso in un posto migliore quando arrivai la prima volta in questo posto mostro azzurro mi diede il benvenuto con un abbraccio mostruoso adesso tutti sanno che mostro azzurro con le sue lunghe braccia dà il miglior abbraccio del mondo grazie per averci ascoltato per non perderti le nostre storie iscriviti alla newsletter sul nostro sito www.racconti per bambini liberi.com ciao